Ci siamo amici, la diretta è partita, questa è la nostra prova tecnica iniziale per vedere che tutto sia a posto, questa è la diretta del 16 novembre 2022, sono le 18, giorno e ora della nostra diretta, il giorno è mercoledì, dovreste sentire la mia voce, vedere la schermata stiamo per iniziare, sto chiacchierando per controllare la qualità della trasmissione, per vedere che tutto sia a posto, vedo i vostri ok, il primo è di Yolando, ciao Yolando, poi Vanni, Marco, penso di aver saltato qualcuno, Pietro, Michele, Fabio, Valeria, Bruna, Sergio, Anna, di nuovo Michele, Aldo, Fabio, Alex, Anto, Paolo, Piero, Lino, Ferruccio e Rosi e Madogar come account, Luca, Maria, Luce, Jacqueline, Vito eccetera, siete in tanti, vedo già che ci sono tanti mi piace, grazie infinite e ricordatevi sempre di metterlo durante il video e cominciamo a farci vedere, quindi vediamo se schiaccio i bottoni giusti per entrare in diretta, eccoci, ciao, bentornati sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina alla nostra diretta settimanale, l'ho già detto prima, lo ridico adesso, oggi è mercoledì 16 novembre 2022. Allora, che cosa facciamo in questa diretta? Parliamo di computer, come al solito, ci dedichiamo al corso super principianti, ma in realtà cerchiamo di affrontare la cosa in maniera tale che possa interessare anche a chi è un po' più esperto, vedo un sacco di amici abbonati qui tra la chat, quindi tra le persone collegate e quindi so che sono più esperte, grazie infinite ragazzi. Allora, l'argomento di oggi è questo, o meglio, l'argomento di oggi parte da una domanda. Cosa fare spesso, inteso, quando lavoro a computer? Cosa devo fare spesso? Cosa è meglio fare spesso? Provate a rispondere, amici, so che siete già super esperti, quindi sicuramente arriveranno le risposte giuste, le attendo in chat. Nel frattempo, intanto disegno la riga per accogliere le vostre risposte a questa domanda. Saluto Benedetto, grande Benedetto, grazie infinite per il tuo sostegno che dura ben da 14 mesi. Avevo visto anche il messaggio di Pietro, ciao Pietro, grazie per i tuoi 24 mesi di abbonamento. Vi ricordo che super chat, super sticker, super grazie, gli abbonamenti, gli altri sistemi che utilizzate per sostenerci sono per noi importantissimi, quindi grazie, grazie, grazie infinite ragazzi. Agli amici che ci sostengono con altri sistemi fuori da quelli proposti qui da YouTube, a volte non riusciamo a mandare ringraziamento perché magari non abbiamo l'indirizzo email, non abbiamo un recapito, eccetera. Quindi grazie, vi arrivi adesso il nostro ringraziamento, se ci iscrivete per fare la richiesta a te, essere a per altre cose, abbiamo la possibilità anche di ringraziarvi, però grazie, grazie infinite. Allora, intanto grazie Benedetto per l'uso della super chat, grazie infinite e vedo che state cominciando a rispondere. Nel frattempo, cioè mentre rispondete, vi do un attimo di tempo per mandare un po' di vostre risposte, andiamo a parlare degli abbonati, degli abbonamenti. Allora, me lo chiedete abbastanza spesso, cosa costa un abbonamento, come funziona, eccetera, eccetera. Allora, per sapere tutto sugli abbonamenti basta premere su abbonati, sotto ad ogni video appare il pulsante abbonati. Si preme lì sopra, non è definitivo, se premo su abbonati non succede niente, vedo le informazioni e successivamente, una volta che so come funziona il tutto, potrò decidere se abbonarmi oppure rimandare ad un altro momento. Quindi si può premere in tranquillità per scoprire che cosa succede. I video degli abbonati escono due volte alla settimana, quindi ogni settimana ci sono due video che noi chiamiamo della serie speciale perché sono riservati agli amici abbonati. Di questi video, che ripeto escono settimanalmente, generalmente due alla settimana, ce ne sono già un sacco. Sono qui dentro la serie speciale abbonati, se premo qui li vedo tutti quanti, gli amici abbonati dovrebbero avere anche un'iconcina apposita sul canale YouTube. Questi sono tutti i video. Sono di argomenti vari, molti sono del corso di computer base, sono esercitazioni, sono ragionamenti che ci facciamo in seguito a vostre domande, sono cose che magari hanno bisogno di un pubblico un po' più riservato, quindi preferisco parlarne qui, diciamo nella parte degli amici abbonati. Sono cose a volte che faccio per me, quindi devo fare una cosa, aspetta che allora la mostriamo come si fa a tutti quanti. Quindi questi sono tutti i video degli abbonati, ce ne sono, adesso non ho il numero esatto, ma sono più di 300, 300 e qualcosa. Guardavo se mi usciva scritto da qualche parte qui, ma non lo vedo, dovrei fare scorrere tutta la pagina per arrivare fino in fondo e poi ricarica e devo fare scorrere ancora. Quindi sono veramente tanti nel tempo che si sono accumulati questi video e ogni settimana ne escono due nuovi. Allora Agostino, grazie infinite per l'uso della Super Chat. Ricordo agli amici che ci sostengono in qualche modo, Super Chat, Super Sticker, abbonamento, altri sistemi eccetera, di fare un salto sul nostro sito associazionemaggiolina.it, questo è il sito pubblico che ci racconta un po', c'è una pagina speciale per gli amici, se premo qui sopra vedo le istruzioni per accedere poi, quindi qui ci sono tutte le istruzioni per arrivare ad accedere al sito Amici di Maggiolina, dove ci sono i contenuti speciali per il sito Amici di Maggiolina. Tanto ringrazio Franco, grazie infinite Franco per l'uso della Super Sticker, in questo caso grazie grazie, per noi è molto importante, e anche Domenico. Ciao Domenico, grazie infinite per l'uso del Super Sticker. Siamo pronti a partire con l'argomento, faccio vedere brevemente altre due cose, l'argomento abbonati di questa settimana, quindi di domani, domani uscirà il video abbonati e un altro uscirà sabato, domani lavoreremo sulle immagini, mi avete chiesto come fare a unire i due immagini, ho fatto due foto, per fare l'esempio specifico, a un articolo di giornale, devo fare un quadretto, non lo so, voglio raccoglierle in una unica, come faccio con questi due file, queste due foto, a metterle insieme, perché l'articolo era sparso un po' di qua e un po' di là, quando si faceva a mano, si ritagliava a forbice e poi si metteva tutto quanto insieme, ma se devo farlo a computer? Beh, abbiamo provato a dare una risposta in questo video qua, abbiamo trovato un paio di sistemi, ma sicuramente ce ne saranno altri. È uscito anche lo sfondo del desktop per il nostro cellulare, avevo voglia di cambiare lo sfondo del desktop del nostro cellulare, qui c'è la possibilità di farlo e qui c'è il link al video per gli amici abbonati, anche se gli sfondi sono per tutti, quindi tutti gli amici che ricevono lo sfondo, che raggiungono qui il sito, eccetera, trovano lo sfondo, lo possono scaricare, usare, condividere, eccetera. Dicevo, c'è anche un video per gli amici abbonati in cui mostriamo come metterlo sul proprio cellulare. Saluto Roberto, grazie infinite Roberto per l'uso della super sticker, grazie, grazie infinite, Franco e Domenico li ho già ringraziati, grazie. Allora, torniamo indietro, quindi disegno una riga, torniamo indietro e cominciamo a dare una risposta a quella che è la nostra domanda principale, che è cosa fare spesso, cosa devo fare spesso quando lavoro a computer, questa è una cosa fondamentale, la si impara subito, dopo si comincia a lavorare al computer e non ti ricordi di fare questo, lo impari subito, però lo impari a tue spese, quindi vediamo di impararlo prima. Allora, sto tornando indietro nella chat per vedere le vostre risposte e vediamo, allora, devo trovare la riga, eccola qua, Angelo ci saluta, ciao Anto, Anto dice salvare, poi Pietro dice salvataggio driver, sì Pietro salvataggio driver, sì, Letizia salvataggio driver, giusto, Ernesto svuotare il cestino, altra cosa giusta, bravo Ernesto, salvare il lavoro, Anna, Orazia dice fare sovente i salvataggi, Orazia brava, Michele aggiornamenti, Valeria salvare, tre punti esclamativi, brava Valeria, poi grazie infinite di nuovo per la super chat, Benedetto per la tua nuova super chat, grazie infinite, Giuseppe controllo la posta elettronica, vuotare il cestino Marco, Gaetano dice pulizia, Lino salvare il lavoro fatto, Ornella salvare il lavoro svolto, poi salutiamo Franco che è abbonato da 23 mesi, grazie infinite Franco, Laura, salve, bisogna salvare spesso il lavoro fatto, prima luna, se uso Word o Excel salvare spesso, Matti Matti pulizia disco rigido, Libera, buonasera a tutti, ciao Libera, Graziella salvataggio, luce, controllare che il PC sia sempre a posto con la ricarica, ok, beh io questo non faccio mai perché ho il computer fisso, però ci sta, lo dico sempre a mio figlio quando va a scuola, si ti porti il computer, ma l'hai caricato perché sennò poi arrivi là e il professore magari non è felice se ti si spegne dopo 20 minuti, Laura, Laura tenere i cestini, il cestino è sempre vuoto, bravi, questa qui è una cosa importantissima, Maria salvare i driver, Ugo, qual era la domanda? Sono arrivato ora, ciao Ugo, che cosa bisogna fare spesso quando lavoriamo al computer? Italo, ho due postazioni su YouTube, una con i miei filmati, l'altra oltre ai miei un sacco di filmati, ne parliamo dopo, Italo, vediamo ancora qui queste domande qua, poi partiamo col nostro argomento, poi invece facciamo domande e risposte come al solito, Francesca, fare pulizia di cose inutili mantenendo il PC in ottime condizioni, salvare i dati, Cristina, mettere mi piace ai tuoi video, brava Cristina, sei la prima a dirlo, ma brava, aspetta che lo mettiamo in primo piano questo messaggio perché ci sta proprio, mettere mi piace ai miei video, grazie, devo ricordarmi questa cosa, farò una lezione apposta per i principianti, Mario, buonasera a tutti, buonasera a Daniele, buonasera da Lucia, Aldina e poi mi è scappata avanti la chat ma ci siamo, siamo arrivati in fondo, bravi, allora avete indovinato, avete detto tutte cose importanti, tutti avete detto cose importanti e mi fa piacere sentire, leggere che sono cose che mi sentite dire spesso, quindi bravi vuol dire che funziona questa cosa della ripetizione spesso, quello che intendevo a questo punto con questa schermata qui e con questa copertina quindi era salvare, salvare quindi il nostro lavoro, quando lavoro a computer devo ricordarmi di salvare quello che sto facendo, lo devo salvare nel disco, registrarlo nel computer perché l'inghippo, perché il problema è sempre dietro l'angolo, in passato succedeva molto più spesso che tu scrivevi una cosa, a un certo punto ti si spegneva il computer, si bloccava il computer, non si muoveva più niente, non riuscivi a fare più niente e avevi perso tutto il tuo lavoro, quindi chi viene come me dai tempi passati ha nel DNA il salvataggio, bisogna assolutamente salvare spesso, ma a volte non è neanche la situazione fortuita, nel senso che si è bloccato il computer e quindi caspita perdo tutto il mio lavoro, quante volte vi si sarà bloccato il computer ultimamente? Non tante perché ormai i computer hanno molta prestazione e quindi reggono bene lo sforzo, però in realtà siamo noi a volte a fare dei pasticci, quindi siamo noi che poso la tazzina del caffè male, mi cade sulla tastiera oppure prendo contro con il gomito eccetera, faccio un pasticcio e se faccio un pasticcio fermi tutti, ho salvato se la situazione è irrecuperabile prendo il mio salvataggio, adesso approfondiamo questa cosa, altra situazione riguardo al salvataggio è questa e mi raccomando sempre con i miei figli o con chi lavora a computer con me, sei davanti al computer, stai lavorando, ti alzi perché vai ad aprire la porta, perché vai a bere un caffè, perché vai in bagno, quindi lasci il tuo computer incustodito per un certo periodo di tempo, prima di alzarti salvi quello che stavi facendo, bisogna sempre salvare quello che si sta facendo, soprattutto se si sta per abbandonare il computer, perché non puoi sapere che cosa capiterà al tuo computer mentre non ci sei, dal gatto che ci va a giocare a qualsiasi altra situazione, non parliamo poi sul lavoro di questa cosa. Io quando sono particolarmente paranoico salvo e chiudo quello che sto facendo perché non voglio assolutamente sorprese. Saluto Anna, ciao Anna, ciao ciao, fa piacere vederti qua con noi in diretta, grazie infinite per la super chat. Allora e quindi adesso riprendiamo il filo del nostro discorso da super principianti. Nel video della settimana scorsa ci siamo detti che una delle cose più importanti da sapere quando usiamo il computer è sapere cosa sono file e cartelle e come gestire file e cartelle e quindi noi siamo andati a vedere e abbiamo visto che nel nostro computer, nei nostri dischi, nei dischi del nostro computer ci sono delle cartelle che sono dei contenitori, vado in esplora file così le vediamo e vado in documenti, ci sono delle cartelle, le voglio vedere più in grande, visualizza icone grandi, eccole qua, ci sono delle cartelle, lo ripeto per l'ennesima volta, che sono dei contenitori. Attenzione, queste cartelle non occupano spazio nel tuo computer, puoi farne finché vuoi, ma se sono vuote non occupano spazio, occupano lo spazio di un granello di polvere nel mondo in sostanza, quindi ne puoi fare tante e puoi averne più di quelle che ti servono se vuoi, anche se non ha senso perché poi fai confusione, però puoi fare tutte le cartelle che vuoi nel tuo computer, non occupano spazio fin tanto che sono vuote, quando sono piene ovviamente il contenuto delle cartelle occupa spazio, quindi le cartelle sono dei contenitori, mentre tutto ciò che non è una cartella, generalmente tutto al 99%, c'è una piccola percentuale che andremo a scoprire in seguito, quindi di vedere che cos'è, quindi dicevo il 99% di quello che c'è nel nostro computer, se non è una cartella è un file, questi sono tutti file, sono documenti di testo, disegno, immagine e fogli di calcolo, qualsiasi cosa fatta a computer, questi sono i file e sono l'oggetto del nostro salvataggio e adesso andiamo a ragionare su questa cosa qui, ciao Razia, grazie infinite per la super chat, quindi chiudo tutto, qui nel mio computer ho un sacco di cose, queste sono tutte cose da esperimento, ma questo è quello che io ho salvato nel mio computer, è qui organizzato in cartelle e ciò che non è organizzato in cartelle così sfuso in ordine alfabetico però, ok, io adesso sono qui sul mio desktop, quindi chiudo tutto e raggiungo il desktop del mio computer e mi dico, ok, la cosa più importante da fare quando lavoro a computer è salvare, quando lavoro è inteso, quando creo qualcosa a computer, scrivo una lettera, faccio un ritocco a una foto, faccio un disegno, faccio dei conti, quando creo qualcosa che prima non c'era, se navigo in internet e guardo quello che c'è in internet, sto leggendo, non sto creando niente e lì sono esentato dal salvare perché sto leggendo quello che c'è su internet, se io lo salvo oppure no, quello rimane comunque su internet perché è come se stessi guardando la televisione o una vetrina, ma se faccio qualcosa io di mio a computer devo salvare. Perfino i ragazzi o comunque anche i meno ragazzi, diciamo, che giocano ai giochi a computer, quando arrivano in una situazione pericolosa, loro hanno la vita, cioè hanno il personaggio che corre, deve saltare, deve sparare, eccetera. Quando arrivano in un punto pericoloso, quindi dove rischiano di non fare il salto all'altezza giusta oppure di essere colpiti dal nemico e quindi perdere la vita, perdere l'omino che stanno pilotando e quindi alcuni giochi ti fanno ricominciare da capo quando arrivi fino lì, poi dopo hai perso perché hai saltato male, ricominci da capo e ricorri, salti, rifai tutto. Alcuni giochi ti permettono di salvare, quindi arrivi fino lì, salvi e dopo fai il salto, magari lo fai cento volte, però parti sempre da lì, finché la centesima riesci a saltare e riesci ad andare avanti. Quindi il salvare è intrinseco anche nei giocatori di videogiochi ed è un concetto che nel computer deve essere per noi sempre ben presente. Salvare significa registrare all'interno del computer una determinata situazione. Quindi adesso lo facciamo. Io apro un programma che mi permette di creare qualcosa, in questo caso apro WordPad, vediamo se ce l'ho comodo, perché scrivo un qualcosa, eccolo qua, WordPad e adesso ci siamo. E la cosa che dovremmo dirci adesso, magari se avete voglia di rispondermi, vediamo se trovo la chat qui, è questa. Vediamo, faccio una riga diversa dal solito per riuscire a riconoscerla dopo. Quando devo salvare? Che cosa devo fare? Di che cosa devo preoccuparmi quando devo salvare qualcosa? Perché ok, so che devo salvare, ma di cosa mi preoccupo quando salvo? A cosa devo fare attenzione quando salvo? Adesso sappiamo che salvare è registrare. Vediamo se qualcuno ha voglia di scrivermelo, così poi ci proviamo, vediamo se lo sappiamo fare insieme. Allora, io sono qui, creo qualcosa, quindi in questo caso questo è un foglio di testo e vado a scrivere qualcosa. Per cui scrivo corso di computer, computer, mi raccomando, computer, si scrive computer, non facciamo il corso di computer e poi non lo sappiamo scrivere, quindi puntualizziamolo. Corso di computer, associazione, associazione maggiolina, anno 2023. Questo è il nostro corso che va nell'anno 2023, quindi a settembre, già per noi stagione, anno 2023 del corso di computer. Ok, e quindi adesso io ho intenzione di scrivere molte più cose, eccetera, eccetera. Per cui potrei scrivere tutto e poi salvare, ma se sono furbo, se sono accorto, ogni tanto metto al sicuro il tempo che ho speso, nel senso che ho scritto un quarto d'ora, ho pensato, ho lavorato, ho scritto per un quarto d'ora, fermi tutti, ho un attimo in cui rifiato, dico aspetta che salvo, perché così quel tempo lì è stato scritto sul disco del tuo computer e viene memorizzato per il futuro. E attenzione che in questo momento è nella memoria del computer. Se il computer si spegne, addio a questo lavoro, anche se in realtà ormai il computer è venuto incontro, i programmatori sono venuti incontro a quelli che si dimenticano di salvare, quindi una speranza c'è ancora. Però, mi raccomando, salviamo noi. Quindi ho speso del tempo, la situazione così è giusta, per me mi piace, dico ok, allora fin qua il mio lavoro magari non è ultimato, ma fin qua va bene, salvo. Quindi per salvare vado a premere qui sopra. O trovo la scritta salva, e quindi se c'è la scritta salva posso premere su salva, ma c'è questo simbolo qua che a tanti, quando siamo al corso, mi dicono, ah devo andare a schiacciare sul televisore. Mi, nel senso che non è un televisore quello, è un vecchio dischetto. Questi sono i dischetti di una volta, una volta si salvava qui dentro e quindi il simbolo universale del salvataggio è rappresentato da questo dischetto. Quindi se lo guardiamo bene, questo qui, è questo dischetto qui. Questi dischetti qui non li usiamo più, però il simbolo del salvataggio è rimasto. Quindi per salvare vado a premere lì. Quante volte salvo, quante volte premo, non quante volte salvo, quante volte premo lì sopra, sappiamo che ci serve sapere esattamente un clic, due clic, eccetera. Questo è un bottone, perché è un pulsante. Qua io ormai so che un pulsante ci si potrebbe anche un po' confondere, però in realtà questo è un pulsante. Ha bisogno di un clic solo. Quindi un clic qui sopra e adesso sto salvando. Non ho salvato, sto salvando. Quindi un clic su salva, mi appare una schermata, una finestra. Questa finestra è speciale, tra virgolette, e il suo nome è finestra di dialogo, perché attraverso questa finestra il computer vuole sapere da me delle cose. E adesso vediamo che cosa mi avete risposto per capire che cosa vuole sapere il computer. Allora vado a leggere un po' se trovo le risposte. Allora, bravo Edo che dice mettete mi piace. Sergio, salvare con nome. Qui ci dobbiamo ragionare. Sergio, per adesso salvare. Salvare con nome è una sfumatura dietro l'angolo che dobbiamo ragionare, che dobbiamo scoprire di cosa si tratta. Dico per gli amici principianti, questa settimana uscirà un nuovo video del corso di computer Amici di Maggiolina, Maggiolina eccetera, e parleremo del salvare in maniera più concisa, quindi fuori da una live più diretta eccetera, dove ripercorreremo queste cose che ci stiamo dicendo adesso e anche vedremo delle cose nuove. Quindi ribatteremo su questo tasto importante anche in un successivo video, magari meno dispersivo della diretta. Però qui mi piace molto sentire i vostri suggerimenti e vedere le vostre cose. Allora, salvare con nome abbiamo detto Buonasera a tutti, dice Vilma. Dove salvo? Quindi Anto dice, ma dove salvo? Quindi mi devo preoccupare di dove salvo? E Fabio mi dice nominare. E quindi diceva, quindi due cose. Dove lo metto? E che nome gli do a questo file? E sono due cose giuste. Vediamo, salva con nome dice Vanni. Graziella dice dove salvarlo. Brava Graziella. Leandro dice ricordarsi dove vai a salvare i dati. Esatto. Dove mettere il file? Per Vito. Teodomiro salvare con nome, quindi anche lui la seconda cosa. Michele salvare con nome, nel senso devo dargli un nome. Il salva e il salva con nome sono due cose diverse. Però prendiamolo per adesso con salvare con nome, nel senso dargli un nome. Bisogna salvarlo con nome altrimenti non lo ritrovi più, dice Aldina. Lino, sapere dove si va a salvare. Orazia, salvare con nome per poi ritrovarlo. Francesca, tenere presente la destinazione del lavoro fatto dopo aver salvato. Laura, dove salvarlo? Dandogli un nome per trovarlo facilmente. Cano, salvare sempre con il nome. Ornella, dare un nome al lavoro e sapere dove salvano in quale cartella e dove salvarlo in quale cartella disco. Sapere dove si salva, dice Olivio, Jean Paul, clicca su file e poi salva. Luce, salvare senza nome. Ci sta, ma adesso ragioniamo su questa cosa qui. C'è un modo per riuscire ad avere una fibra in casa. Questo è un altro discorso, vedremo dopo. Dove salvare documenti, immagini, video, tenere sempre dove si salva. Buongiorno. Dice, ok, dice un amico, adesso mi è scappata avanti la chat. Fermiamoci qua con questo discorso. Bravi che avete risposto. Allora, e avete risposto giusto. Quando io salvo, quindi ho premuto questo dischetto perché dico salvo, il documento lo metto al sicuro per poterlo riutilizzare in futuro. Lo scopo è che lo salvo lì perché poi domani vado avanti col lavoro, perché poi domani lo stampo, perché poi mi riserve. Quindi lo vado a prendere in un secondo momento. Quindi la mia prima preoccupazione è dove va a finire questo documento. Lo salvo. Una volta andava sui dischetti e c'erano solo quelli. Quindi tu dovevi ricordarti di aver infilato il dischetto e di sapere qual era il dischetto. Se ne avevi 20, magari ci scrivevi sopra penna, magazzino, fatture o quello che è e tu dici su questo dischetto ho le fatture e lo sai, lo vedi nella vita reale. Ma adesso le cose si salvano dentro al computer, anche sulle pennette, anche su altri dischi, eccetera, ok, ma generalmente dentro al computer. Quindi il computer è grande. Nel computer ci sono tante cartelle e quindi se io non so dove è finito il documento non lo trovo più o comunque devo spendere ore a cercarlo e ti garantisco che se devi spendere ore a cercarlo dopo 5 minuti hai già interpellato tutte le divinità e poi basta, rinunci, se non hai rotto il computer sei ancora contento, se era una cosa importante. Quindi non va bene, dobbiamo sapere dove si salva e il computer ce lo dice. Qui in alto, intanto qui c'è il salva con nome, quella cosa che alcuni hanno nominato e che è un po' strana, di cui scopriremo bene questa funzionalità. Io ho premuto salva, ma in realtà il computer mi dice salva con nome. Scopriremo tra poco perché. Allora qui, in questa riga qui, c'è scritto dove va a finire il documento o quello che sto salvando. Il mio documento attuale, questa cosa che sto scrivendo corso di computer associazione Maggiolina, va a finire in documenti, nella cartella documenti del mio computer. Senza che io abbia detto niente, il computer propone il salvataggio dentro documenti. E per questa volta mi va bene. Quindi se per una svista io non me ne sono accorto, vado in documenti perché di solito è lì. Non sempre va bene, ma questa volta è un documento di testo, documenti mi sta bene. Però abituiamoci a guardare perché il computer tira a indovinare il luogo di destinazione se tu non vai a posizionarlo volutamente. E a volte, per motivi tecnici, che spesso ci sfuggono in realtà quando sei più esperto li riconosci, lui lo mette da un'altra parte. E quindi se tu sei sempre, sei abituato ad andare sempre in documenti, a trovare le tue cose lì e quelle non ci sono, poi sei di nuovo a dover interpellare le varie divinità per cercare di tirare fuori il tuo file e non è bello. Quindi, preoccupazione numero uno, dove viene salvato il lavoro? In questo momento in documenti. Ok, non voglio complicarmi troppo la vita e quindi accetto questo documenti senza cambiarlo. Impareremo in seguito invece a dare una destinazione come si deve e faremo anche proprio degli esercizi. ci saranno dei video dove facciamo l'esercitazione perché questa è una cosa che dobbiamo saper fare bene, anzi benissimo. Quindi, luogo di destinazione mi sta bene. Seconda cosa di cui mi devo preoccupare. Nome file. Dove va a finire questo? Cioè, dove va a finire? L'abbiamo già detto che l'abbiamo visto qua. Con che nome salvo questo file? Ecco, quindi nome file. Come si chiama? Come si chiamerà questa cosa del corso di computer Maggiolina che io vado a registrare? Perché se io non gli do un nome, non gli do un'etichetta, questa cosa si chiama a caso e chi è che poi va a trovare di cosa si tratta? Il computer, non sapendo che cosa sto scrivendo, mi dice documento. Quindi lui propone un nome, perché un nome serve per forza, non potrebbe salvarlo in bianco, e quindi lui propone un nome, documento. Stai scrivendo su un elaboratore testi, quindi stai digitando un documento, un foglio, o redigendo un documento, e quindi lui lo chiama documento. Questo lo chiama documento, se ne faccio uno tra cinque minuti lo chiama documento 1, poi documento 2, poi documento 3, perché non può fare altrimenti. Non può chiamare due documenti documento. Non possono coesistere nel computer due file che si chiamano allo stesso modo e che sono presenti nella stessa cartella. Quindi per forza di cose bisogna cambiare il nome, perché altrimenti il nuovo copre il vecchio. Quindi se io ho già un documento, salvo un altro documento, il nuovo cancella il vecchio documento che non esisterà più, quindi anche se mi serviva, non esisterà più, e ci sarà solo il nuovo. Quindi bisogna gestire il nome. Qui in alto ti faccio notare questo, come qui si vede un po' in grigino, documento. È lo stesso che troviamo qui documento. Ok, quindi questo nome lo devo scegliere con intelligenza, perché poi è importante, una volta che so dove sono i miei file, se i nomi di questi file, quando diventano tanti, non hanno un significato immediato, mi tocca aprirli tutti per sapere qual è quello giusto. E non va bene. Quindi devo dare un nome giusto. Per cui si esclude documento, documento 1, documento 2, documento 3, perché tra tre settimane il documento 3, cosa ha di diverso dal documento 2? Non ti ricordi più, perché sono numeri, non hanno significato. Quindi deve essere un qualcosa che ti richiami alla mente il contenuto di questo documento. Quindi io qui per Corso Computer As Maggiolina devo scrivere un qualcosa che mi faccia tornare in mente qual è il contenuto di questo documento. Mettiamo che io qui abbia scritto il programma del corso, per cui potrei nel nome file scrivere programma del corso di computer Associazione Culturale Maggiolina 2023. Caspita, quando vedo quel nome lì, capisco bene di cosa si tratta. Quel nome non va bene. È troppo lungo. Se io do un nome così lungo a tutti i file, quando è ora di cercare un documento, tutte le volte devo leggere un papiro, se ogni nome è lungo così. Quindi serve una cosa concisa che mi faccia capire di che cosa si tratta. Allora, dato che io lavoro con i corsi di computer, eccetera, posso semplicemente scrivere programma 2023 o programma corso 2023 o programma corso base 2023. Ma va bene, programma 2023. Allora, attenzione che nello scrivere il nome programma 2023 ho usato la lingua italiana corrente. Quindi ho iniziato con la maiuscola. Sempre quando scriviamo iniziamo con la maiuscola, anche qui scrivo come si deve. Perché quando ho creato un sacco di documenti, quando vado a vederli, se sono scritti tutti bene come si deve, è un lavoro ben fatto. Quindi ci abituiamo a scrivere in italiano corrente al meglio delle nostre possibilità. Quindi, iniziale maiuscola, resto piccolo, e poi, se ci si va lo spazio, programma, spazio, 2023. Ricordiamoci di non usare la punteggiatura. Quindi niente virgole e tantomeno niente punti. Alcuni simboli non sono accettati nel nome. Quindi se io uso dei simboli particolari, magari il punto di domanda, adesso non lo so quali siano, non mi ricordo più, però alcuni simboli non li vuole il computer. Dice no, perché questo fa confusione con il mio sistema di archiviazione e di gestione. Solo che lui di solito ti dice no, e tu non capisci. Hai usato un carattere non ammesso. Quindi le lettere dell'alfabeto, senza punteggiatura, è accettato l'apostrofo e le accentate, perché fanno parte della lingua, però non farei altri simboli. Soprattutto niente punti, perché questo crea confusione. Non sempre, ma a volte sì. E quando capita è un disastro. Quindi programma, 2023 è il mio testo, è il nome del mio file. Cosa importante, non scriviamo tutto in maiuscolo. Mai nel computer scriviamo tutto in maiuscolo. né nei nomi dei file, né nei commenti dei vari social, perché si fa la figura dei maleducati e soprattutto si fa la figura di chi non sa usare il computer. Allora, nei nomi dei file non scriviamo in maiuscolo, perché tu questo, che scrivi bene adesso, programma 2023, bello in grande, caspita lo vedi bene. Ah, mi dico, questo lo vedo bene. Ma se io scrivo tutti i nomi in maiuscolo, quando vado a guardare i miei 50 file che ho creato, sono tutti in maiuscolo. Non si legge più niente. Quindi, italiano corrente, iniziale maiuscola, poi tutto piccolo. E se c'è una maiuscola, il nome di una città, il nome di una persona, un qualcosa, quello lo scrivo in maiuscolo. Come scriverei in italiano corrente. Quindi, no, tutto maiuscolo. Nei commenti sui social, invece, equivale a urlare, alzare la voce, il maiuscolo. E quindi, si fa subito la figura dei maleducati, perché si urla e non è mai gradito, questo specialmente nei commenti sui social. E soprattutto, cioè, o sei un maleducato, o sei uno che proprio non lo sa neanche usare il computer. E quindi, ok, quindi, niente maiuscole, niente blocco maiuscole. Dovremmo imparare anche a usare la tastiera. Comunque, mi sono preoccupato, ho fatto un discorso lungo, ma mi sono preoccupato di due cose. Luogo di destinazione del mio file, nome del mio file. In seguito, ci preoccuperemo anche di questo salva come, che è una sfumatura che per adesso non ci interessa, ma in realtà è importante. Dico salva. Quindi, tutto quello che io dovrei fare per salvare è un'operazione molto veloce. Premo su salva, guardo dove, scrivo il nome e salvo. Ho salvato, quindi alla fine ho premuto salva, la finestra di dialogo è andata via e io ho salvato. Qui in alto è stato scritto il nome che io ho assegnato al mio documento, programma2023.rtf. Di quella parte lì ci preoccuperemo in seguito. Guardiamo solo quello che abbiamo scritto noi. Quindi, se io a questo punto mi dico, caspita, ho scritto, ho finito, ho salvato, non ho salvato, caspita, non mi ricordo. Allora, se qui c'è il nome, ah, sì, sì, ho salvato, ma nel dubbio salvo ancora, anche se salvo, non è che ne salvo 3, 4, 5, il nuovo salvataggio copre il vecchio. Quindi, se io adesso scrivo corso di computer associazione Mangiolina anno 2023 e poi vado a capo e dico diretta, diretta del 16 novembre, 16 novembre, questo documento ora è cambiato rispetto a quando l'ho salvato, perché quando l'ho salvato prima questa scritta non l'avevo ancora messa, perché non ci avevo pensato. Intanto ho lavorato ancora e quindi devo salvarlo di nuovo. Non è che questo adesso si salva da solo, non nell'uso del computer normale. Da altre parti sulla nuvola magari sì, ma ci arriveremo più avanti. Quindi nell'uso del computer normale dico, ok, ho modificato qualcosa, salvo. Attenzione a questa sfumatura. Quindi io avevo già salvato prima, adesso devo salvare ancora, quindi vado su salva e salvo per la seconda volta. Salvo, non succede niente. Perché non succede niente? Perché il computer non ha più bisogno come prima di chiedermi dove lo mettiamo, che nome gli diamo, lo sa già. Programma 2023 è in documenti e quindi lui ha aggiornato la versione precedente. Prima c'era scritto solo corso di computer associazione maggiolina anno 2023. Ora, dopo che ho salvato, questa versione nuova ha sostituito la vecchia. Quindi questa adesso è solo l'ultima versione esistente e c'è scritto anche diretta del 16 novembre. chiudo tutto con la X torno sul mio desktop e ho finito. Sembra che ci abbia impiegato tanto, in realtà è una cosa veloce veloce. Allora, vado a vedere cosa è successo. Vado su Esplora File che è il mio punto di partenza sempre. Poi noi quel file l'abbiamo salvato in documenti. Quindi cerco documenti, eccolo lì, clic, qui ci sono tutti i documenti, queste sono tutte cose che in passato io o qualcun altro ha salvato all'interno del computer. Ma qui dentro tra queste cose c'è anche il mio programma 2023 perché era salvato in documenti e deve stare lì. È in ordine alfabetico, però attenzione, prima tutte le cartelle in ordine alfabetico, poi tutti i file in ordine alfabetico. Candy è il mostro, Candy è il mostro di gelatina in ordine alfabetico per così in questo caso. La visualizzazione degli oggetti può cambiare, però vabbè, prendiamolo così. Prendiamo che quando ci sono i quadrati così grandi, quando ci sono le icone così grandi l'ordine alfabetico è nel senso di scrittura. Quindi questa riga, poi parto qui e vado sotto. Devo andare alla P. Ci sono tante cose, faccio girare la rotella e trovo, guarda qui, programma 2023. vedi che qui c'è anche un programma del corso. Questo è un file che io avevo fatto in un altro momento, perché il mio nome giusto è programma 2023. Il nome dovrebbe dirti sempre di cosa si tratta. Adesso qui ho tutti esempi, diciamo, tutte cose fatte per esempio e quindi magari non è proprio così, ma in realtà il nome dovrebbe aiutarti a capire esattamente di che cosa si tratta. e dovrebbe essere scritto e gestito talmente bene che anche un'altra persona potrebbe mettere mano e sapere. Io dovrei poter per telefono parlare con mio figlio, mia moglie, quello che è, dire guarda, fammi il favore, vai in documenti e stampami o leggimi quello che c'è scritto dentro programma corso 2023. Quindi un'altra persona dovrebbe poter mettere le mani. Allora il computer è organizzato bene. Io in questa operazione qui, in questa operazione di salvataggio ho creato un file. Per tornare a noi file e cartelle, come si creano, come si cancellano, come si modifica il nome, come si spostano, eccetera, per noi è molto importante. Salvando un documento ho creato un file. Quindi questi file si creano salvandoli. Ho aperto un programma che mi serviva fare una specificazione, scrivere, ho scritto, ho salvato e ho creato un file. Se io ci clicco sopra due volte, clicco sopra due volte, ho ottenuto il contenuto del file. Quindi questo è il mio file, contiene questa cosa. Posso stamparlo, posso fare un sacco di cose. Va bene, riproviamo ancora, vediamo se siamo un po' più veloci e se ricapiamo bene il funzionamento. Allora, questa volta io devo fare un disegno. non devo scrivere qualcosa ma devo fare un disegno. Quindi, premo sul menu di avvio il pulsante Start per andare a cercare il programma per disegnare e il programma per disegnare si chiama Paint. Probabilmente la pronuncia giusta è Paint. Ce l'ho qui. Vedremo in seguito come trovare questi programmi, eccetera. Restiamo solo concentrati sul salvataggio. Quello che voglio farti vedere è che questa volta creo un qualcosa di diverso clicco con un programma diverso. Questo serve a disegnare. Quello di prima serviva a scrivere questo serve a disegnare. Devo disegnare una stella rossa gialla mi piace di più gialla o verde quindi scelgo la stella scelgo il colore verde scuro e disegno la mia stella eccola qua quindi questo è il mio foglio disegno la mia stella gli do dentro una secchiata dello stesso colore allora secchio colore facciamo sempre lo stesso verde o quello più chiaro quello più chiaro secchiata dentro e questa è la mia stella bene fine della mia creazione anche qui come per la scrittura se io facessi tante cose di questo disegno devo ricordarmi di salvare a step ogni tanto perché quando ho salvato questa cosa è fissata e succede qualsiasi cosa è ancora lì quando ritorno a computer e quindi sono a posto dischetto eccolo lì questa volta il dischetto sembra un po' diverso perché l'hanno disegnato la rovescia questo se lo vediamo questo sarebbe il dischetto di una volta il primo era con l'etichetta sopra il secondo è con l'etichetta sotto questo che ha l'etichetta si vede meglio eccetera però è sempre lui c'è scritto salva comunque quando io premo lì c'è scritto salva prima di premere quando arrivo lì c'è scritto salva è lui programma diverso ma metodo di salvataggio uguale un click su salva questa volta è su una pulsantiera questa è una pulsantiera quindi è un pulsante se è una pulsantiera è un pulsante un click si apre la finestra di dialogo quella di prima che mi chiede dove voglio mettere il disegno questa volta allora la sposto un po' che forse la copro io così la vediamo meglio questa volta il mio computer non sa dove metterlo questo disegno non è un documento di testo lui lo mette così a caso nel mio computer è una cartella da cancellare ha fatto i suoi ragionamenti non è che per lui è a caso lui ha fatto i suoi ragionamenti ha visto dove salvo di solito dove ho salvato di solito l'ultima immagine e mi propone lì non mi va bene io lo voglio mettere in documenti quindi qui giro faccio girare la rotella trovo documenti un click questo documento una volta cliccato è andato là e adesso salvo con nome in documenti sono qui a dover dare il nome questo nome questa volta non è in blu prima era in blu non mi sono dimenticato di dirtelo prima te lo dico adesso questo nome qui non è in blu clicc una volta diventa blu e adesso io posso scrivere quello che voglio e questa è una stella verde quindi scrivo stella verde quindi stella spazio verde ci sono un sacco di sfumature anche ad esempio qui ho scritto ma non ho cancellato prima dovevo cancellare non dovevo cancellare eccetera in realtà quando è tutto blu mi basta scrivere perché ci finisco sopra quindi lo sovrascrivo ma per questo faremo un altro video dove vedremo altre sfumature altri dettagli che per un principiante sono importanti quindi sto salvando in documenti un qualcosa che si chiama stella verde salvo qui in alto non si vede perché ho un colore infelice questo verde qui e c'è scritto stella verde non che lo veda io ma dovrebbe esserci scritto stella verde chiudo e ho finito quindi ho aperto un documento ho aperto un foglio da disegno ci ho disegnato una stella verde e l'ho salvata allo stesso modo che avevo usato prima come si dice allo stesso modo in cui ho salvato prima il documento di testo meglio dove è andato a finire in esplora file in documenti documenti un click ordine alfabetico perché non è andato in nessuna cartella noi abbiamo detto solo documenti faccio girare la rotella perché è in ordine alfabetico è qui alle mie spalle vediamo allora ho spostato la finestra dobbiamo ricordarci sempre queste cose le finestre l'uso delle finestre è sempre importantissimo siccome io temo che la stella verde che è qui sia alle mie spalle dietro di me prendo la finestra da qui la sposto un pochino la metto qua in modo che la puoi vedere anche tu la finestra si è ristretta e le cose adesso si sono riorganizzate perché c'è meno spazio quindi devo girare la rotella per raggiungere la stella verde che è questa questa è la mia stella verde ed è dentro a documenti documenti stella verde documenti documenti stella verde in documenti c'era anche programma corso 2023 eccolo qui programma corso 2023 se io clicco due volte qui sopra si apre la stella verde e quindi ho salvato un nuovo documento e ho creato un nuovo file quindi nel corso di questa diretta abbiamo creato due file nel mio computer che occupano spazio poco o tanto dipende dal loro contenuto e sono nel mio computer quindi abbiamo aggiunto al computer due cose dovremo imparare a gestire bene la posizione di queste cose a sapere se ci servono se non ci servono se le tengo le sposto le cancello vuoto il cestino tutte queste cose qui però salvare significa registrare il nostro lavoro e creare un file all'interno del nostro computer e salvare quando creiamo qualcosa è molto importante dobbiamo farlo tutte le volte che ci viene in mente e quindi spesso più siamo in difficoltà più è difficile quello che facciamo più spesso salviamo l'operazione perché è difficile se perdo il lavoro mi tocca rifare tante cose difficili quindi questo è quello che voglio portare a casa con questa lezione con questo video vuol dire quindi è quando salvo creo un file nel mio computer e quando creo e gestisco invento qualcosa nel mio computer lavoro salvo per fissare il mio lavoro fatto fino a quel momento e perché voglio utilizzarlo anche in futuro va bene adesso vorrei concentrarmi solo sulla chat dare uno sguardo a tutto quanto stavolta vado a ritroso su questa chat perché abbiamo fatto un po' un po' di giri quindi la leggo al contrario parto da Anto che sta parlando con Davide quindi va bene così Davide dice trovare l'url e scusa il caps lock ok adesso non so di cosa state parlando quindi sono cose vostre ed o anche lui sta rispondendo vediamo Davide che scrive tutto in maiuscolo ciao scusa quindi siamo al discorso del maiuscolo sto seguendo il tuo corso sulla programmazione in C vorrei avere la lista degli esercizi che sono sul sito ma entrando nella sezione amici mi dice che è impossibile no allora puoi avere i file di esercizio di C scrivendo un'email a esercizi C tutto attaccato chioccio all'associazione maggiolina.it e quindi ci sei e ti risponde un risponditore automatico che ti manda il link per vedere per utilizzare quei file il sito amici di maggiolina è accessibile solo agli amici sostenitori che hanno seguito tutta la procedura vuol dire che devi se vuoi far parte di amici di maggiolina e vedere il sito devi andare in internet andare su www.associazionemaggiolina.it leggere la pagina dedicata agli amici dove ci sono tutte le istruzioni e c'è anche il comando entra ora se hai seguito tutte le istruzioni entra ora ti fa entrare se non hai seguito tutte le istruzioni entra ora non ti riconosce come amico di maggiolina e ti dà un messaggio di errore questo vale un po' per tutti ok e quindi qua ci siamo andiamo sopra Anto dice Daniele come mai non sei più mimetizzato con lo sfondo perché non mi piace più adesso che adesso da tanto tempo che non mi piace più avere il fondo trasparente per un motivo semplice allora era bello il fondo trasparente era bello però non è mai a posto non è mai perfetto c'è sempre un pezzettino di verde che si vede e sui capelli e da un'altra parte eccetera perché perché quando io apro le pagine dei vari siti una pagina bianca o una pagina rossa o una pagina verde cambiano il colore con cui sono illuminato dal mio schermo perché è molto vicino quindi cambia il colore del mio viso e dello sfondo e quindi mette in difficoltà lo sfondo verde la trasparenza eccetera e questa non è mai bella e perché non mi piace più perché ormai molti video vengono visti sulla televisione in alta risoluzione e quindi vedere un video comunque con delle come dire degli sfarfallì delle cose distrae soprattutto non mi piace e quindi cambiamo sistema cambiamo lo sfondo lo sfondo quadrato è così occupa un po' più di spazio ma al momento è la situazione che mi soddisfa un po' di più poi ci sono le luci la regolare c'è la telecamera eccetera ci sono altre difficoltà quindi ogni tanto mi vedrete cambiare qualcosa magari cambierò lo sfondo dietro insomma un po' un po' di cose però ho deciso da tanto che voglio farlo e adesso ho detto basta adesso voglio che il video non abbia quegli sfarfallì che a me danno fastidio e quindi non sono più trasparente poi Lore che mi manda i cuoricini le faccine con i cuoricini grazie infinite poi un un amico con un nome lungo dice un'informazione io sto creando un sito con google site per quanto riguarda i cookie e la privacy devo inserire in realtà c'è un po' tutto lui che fa questa cosa tu puoi inserire le pagine per la privacy eccetera puoi cercare ci sono vari siti che ti permettono di cercare le varie cose però per i cookie fa tutto quanto lui ha lui la voce giusta da mettere mentre per la privacy se vuoi fare proprio tutto bene dovresti cercare il sito internet ti aiutano a compilarlo e ti danno alla fine una pagina con tutta la normativa per la privacy da mettere nel sito e quella è pesante però c'è c'è qualche aiuto poi saluto Lore saluto Lore saluto Anna Claudia grazie dei preziosi insegnamenti ciao Claudia Aris dice in effetti sui social scrivere in maiuscolo corrisponde anche ad alzare la voce o gridare Marmeli sta parlando con Dario quindi poi dopo leggeremo Noemi dice ciao ciao Noemi Dario dice Daniele la mia stampante ha l'inguan Samsung eccetera a causa dell'aggiornamento ha perso i driver no no più piano non è che la tua stampante ha perso i driver tu hai perso i driver perché i driver sono a gestione tua il Windows non ha più i driver giusti però dovevi salvarli tu quei driver quindi ha perso i driver e stampa con difficoltà dove posso trovare i driver complimenti per la lezione ottima Dario beh Dario è una stampante Samsung sito Samsung quindi si va adesso non voglio andare a fare questo giro lungo perché a volte è lungo ed è diciamo snervante trovare queste cose però si va facciamo un salto veloce dai vado sul sito Samsung quindi boh scrivo Samsung Italia Samsung Italia forse comunque Samsung Italia vediamo cosa c'è www.samsung.com questo è un annuncio tutte le offerte questo Samsung Italia premo qui c'è l'azienda Samsung che si vabbè dico ok accetto i cookie che si presenta e si come si dice ti fa vedere quello che che vogliono in sostanza e in genere tutte queste aziende hanno una voce supporto quindi tu vai su una voce supporto e poi cerchi il tuo il tuo strumento e vediamo assistenza e riparazione garanzia e ripare il tuo prodotto manuali tecnici ricambi centro di assistenza autorizzati eccetera insomma ti devi guardare un po' attorno perché poi a seconda del prodotto vediamo aiuto per il prodotto supporto di solito c'è il modo di dire di che cosa si tratta ecco download manuali e software download manuali e software però questa voce qui la devi cercare a logica io adesso ormai ho fatto tante volte questo lavoro un po' di naso ce l'ho quindi download manuali e software poi ti dicono di che cosa vuoi allora tu hai detto che hai una 2875 allora scrivo 2875 non ha trovato niente probabilmente all in one vediamo all in one 2875 allora proviamo con stampante stampante oppure trovare il codice modello quindi se tu prendi in mano l'oggetto è qui però categoria informatica sotto categoria pc o monitor ne sono dei due tipo prodotto no qui noi volevamo una stampante ti devi guardare attorno per trovare il codice di questa stampante da scriverlo per scriverlo qui dentro in modo che tu possa trovare la stampante e trovare il driver chiaro che se è vecchio più vecchia è la stampante o l'oggetto più difficile è risalire al driver per questo dico sempre salviamo i driver per tutte le volte che possiamo perché si può trovare ma ci vuole un sacco di tempo e un po' di capacità volevo dire un'altra cosa riguardo a salvare i driver che adesso mi sfugge e niente se mi viene in mente la dico ma al momento mi sta scappando questa cosa qui ci sono anche dei driver universali a un certo punto per gli oggetti e le stampanti più vecchie però non è detto che funzioni come era prima e niente dai se mi viene in mente dico la cosa adesso mi sfugge intanto andiamo a vedere cosa dice Amalia spero che il mio amico mi lasci vedere il video in pace speriamo di sì Amalia ormai il grosso si è visto Giuseppe dice ciao Daniele buon pomeriggio a tutti Amalia anche te salve ciao Andrea leggendola al contrario è un po' strano leggere la città al contrario e Eiosè in una cartella documenti ok ti stai riferendo a quello che abbiamo fatto prima nominarlo qui erano le cose che avevo chiesto Renato dice nome e dove salvare grande Renato che lo hai detto giusto Gaetano salvare del posto giusto in modo da poter ritrovare facilmente il lavoro bravissimo Piero dice salvare al di fuori del disco C salvare al di fuori del disco C immagino che sia perché tu dici perché non occupi spazio sul disco C ci sta però non tutti hanno un disco diverso dal C quindi salvare ok il luogo dobbiamo deciderlo noi ci ragioneremo un po' per scegliere il luogo migliore è una buona idea questa di solito se io ho più di un disco nel mio computer un disco C o un disco D le mie cose le metto sul D perché il C deve rimanere più libero possibile per il sistema operativo e quindi meglio il D se ne ho un C e basta mi regolo se invece quell'oggetto deve viaggiare con me quel file deve viaggiare con me salvo su una pennetta per esempio il concetto è sempre quello e impareremo impareremo bene va bene torno intanto al sito amici perché non credo che mi verrà in mente la cosa della stampante poi andiamo avanti allora Piero ok Mario dice nome del file e dopo indicare dove salvare bravo probabilmente l'ordine migliore è nome file e dove salvare io ho detto il contrario me ne sono reso conto parlando ma non volevo fare confusione quindi guardiamo anche il prossimo video in cui mettiamo a punto vari dettagli di salvataggio poi cos'altro c'era Pietro Mario Anna il nome la destinazione Yolanda salvare sempre con i nomi Franco buonasera a tutti 309 sono i video per abbonati è sempre un piacere ascoltarti grazie Daniele grazie infinite Franco anche per il numero che non mi ricordo mai Benedetto messo like fatelo anche voi e state seguendo la diretta per sostenere il lavoro di Daniele per il canale grazie ragazzi 215 mi piace veramente tanti bravi grazie grazie infinite Valeria dare un nome al file e dare una destinazione French dice buongiorno Yolanda dove salvare documenti immagini video sapere sempre dove si salva brava Alessandro c'è un modo per riuscire ad avere la fibra in casa senza per forza spaccare il muro o fare interventi se prendo una chiavetta inter inter o chilometri quadrati una buona velocità allora è un po' strana la tua domanda Alessandro nel senso c'ho capito il discorso non ho una risposta precisa allora l'impianto di casa chiaramente influisce se la fibra arriva fino alla tua porta ma poi i fili dell'appartamento i fili che salgono in casa sono scadenti 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 perdi tutto il vantaggio di avere la fibra quindi è difficile ci sono le onde radio però non è che puoi mettere un'onda radio vicino al citofono e puoi avere internet in casa quindi è un po' strano quelli che viaggiano invece senza senza filo quindi le varie antennine che mettono non sono mai una grande soluzione quindi non so darti una una risposta a me non arriva neanche la fibra quindi il problema non si è posto però non so cosa dire un filo una canalina un filo sarebbe l'ideale però non so non so darti una soluzione luce salvare senza nome a cui l'avevamo già visti quindi vediamo se troviamo qualche altra cosa che avevate scritto prima allora Edo mettete mi piace bravo Edo felice buonasera a tutti Bianca dice mi succede spesso di dover cliccare control più F5 per aggiornare la pagina di alcuni siti c'è un motivo forse perché ogni tanto faccio pulizia della cache allora no dipende dal sito Bianca in genere si preme F5 per aggiornare il contenuto della pagina però non serve il control F5 in genere non serve io premo di solito sul mio computer direttamente F5 aggiorno la pagina si aggiorna la pagina in quei siti dove si presume che il contenuto sia cambiato spesso nel senso che se sto guardando le quotazioni in borsa o se sto guardando a volte mi capita di guardare le qualifiche di MotoGP o della Formula 1 eccetera a computer perché non ho la televisione perché non ho il tempo eccetera quindi vedo gli aggiornamenti che scrivono ah tizio ha fatto il miglior tempo all'altro ha fatto una scivolata eccetera quella pagina è una pagina internet che cambia spesso quindi o io premo F5 per aggiornare la pagina internet o loro hanno fatto in modo che la pagina internet si aggiorni da sola periodicamente o tutte e due le cose nel senso che la pagina si aggiorna da sola periodicamente di solito è un minuto ma se io sono impaziente premo F5 quindi potrebbe dipendere dai siti non ho una risposta per te senza vedere la tua situazione quindi non so darti una mano in questo poi Piero dice sta parlando con Alessandro quindi fine del discorso che ore sono? 19.02 dai l'ultima domanda saluto Maurizio poi vediamo ne prendo un'altra a caso in questo caso intanto saluto Euroesposto leggo qui interessante è la prima volta che ti seguo grande grazie spero che tu sia ancora qui per sentire il mio saluto Bruno quando si scrive una mail si può salvare quando scrivo una mail va da sola nei messaggi inviati quindi trovi una coppia di quello che hai salvato sì l'ultimo messaggio vediamo qual è l'ultimo messaggio della chat l'ultimo messaggio della chat è di un altro Daniele che mi dice ciao Daniele quindi sono due Daniele che si salutano ho una domanda tecnica ultimamente non mi funziona più il comando a tastiera CTRL Y funziona solo CTRL Z ma non il ripristino sai se si può fare qualcosa beh allora se CTRL Z funziona il CTRL funziona devi vedere se funziona la Y se la Y funziona da sola non c'è un motivo per cui non funzioni CTRL Y insieme quindi non c'è un motivo meccanico se invece la Y non funziona è proprio il tasto Y che non funziona e quindi devi cambiare tastiera o ripararla ma ripararla se è un computer portatile va sostituita a meno che non sia qualcosa incastrato sotto la tastiera a volte capita che magari io ho spesso qualcosina di plastica in mano degli oggetti eccetera perché quando lavoro ho sempre qualcosa in mano se mi cade tra i tasti della tastiera poi va sotto se impedisce la pressione del tasto disastro se non viene fuori scuotendola è un pasticcio quindi se la Y funziona il tasto CTRL sappiamo già che funziona non è un problema tecnico e quindi c'è da capire perché CTRL Y non sempre funziona nel senso che puoi tornare indietro e andare avanti ma a seconda della situazione quindi non so dirti perché però dove c'è un CTRL Y c'è anche l'andare avanti ti faccio vedere poi dopo ci salutiamo apro un qualsiasi programma abbiamo usato prima il programma di disegno allora programma di disegno paint eccolo qua disegno la nostra un cuore stavolta disegno un cuore lo facciamo rosso per gli amici di Maggiolina ok questo è CTRL Z annulla l'operazione annullo l'operazione e adesso che ho annullato l'operazione ho CTRL Y ripeto l'operazione se non annullo l'operazione non posso ripeterla quindi se io sono così non posso fare CTRL Y non funziona perché non è più non c'è niente che io posso ripristinare CTRL Z lo faccio da tastiera CTRL Z CTRL Y a tastiera ed ecco che torna quindi quando usi CTRL Z e CTRL Y di solito c'è il corrispondente pulsante che ha questa simbologia qua che ti permette di tornare indietro o di ripristinare una modifica bene su questo cuore per gli amici di Maggiolina ragazzi ci salutiamo vi ringrazio di cuore facciamo rosso intero dai col secchio secchio cuore rosso per la compagnia che mi avete fatto durante questa diretta per la partecipazione che avete avuto durante questa diretta per super chat super sticker super grazie abbonamenti altri modi che utilizzate per sostenerci che per noi sono importantissimi per i mi piace tantissimi che avete messo questa sera grazie e per le iscrizioni al canale che per noi sono parimenti importanti ci vediamo in diretta mercoledì prossimo alle 18 ma domani sul canale c'è un video venerdì c'è un video sabato c'è un video quindi fate un salto tutti i giorni sul nostro canale perché c'è sempre qualcosa da fare ci vediamo presto sono pronto a salutarvi ma non ho la tastiera pronta ecco qua ci siamo ragazzi ciao buona serata buona settimana e buon tutto grazie a tutti grazie a tutti